andiamo subito a vedere gli highlights di questa gara con avete visto la partenza difficile di pisani che poi purtroppo dovrà dare forfè lo start che vede ivan bellarosa partire dalla pole position con un crono 8 decimi più veloce di valder di scusate di davidio volti poi la seconda posizione presa proprio da Uboldi con scusate era un secondo e tre il distacco in qualifica tra bellarosa e Uboldi ma che invece in gara non è stato così importante infatti i due hanno girato con tempi in fotocopia con ora vedete invece Eugenio Pisani che si era andato a portare davanti a Maurizio Fratti con una bella bagarre poi invece purtroppo è stato costretto al ritiro questo invece è il momento di difficoltà di Margelli che ha avuto un problema con l'acceleratore la terza posizione sarà costretto a chiudere in quinta piazza e la vittoria di Bellarosa davanti a Uboldi Grazie a tutti